Dimenticato il calciomercato e un mese di gennaio diviso tra contraddizioni e calcio giocato, in Serie C è tempo di concentrarsi solo sul campionato. Il primo weekend di febbraio inaugura un periodo di 81 giorni, fatto di 15 turni, si scenderà in campo, calcolatrice alla mano, una volta ogni 5 giorni e mezzo. Parola d'ordine, vetati, passi falsi, concetto valido per Bari e Virtus Francavilla, avversarie domenica alle 17.30 in una sfida mai giocata al San Nicola. I bianco celesti di Bruno Trocini arrivano nel capoluogo con l'intenzione di confermarsi a mazza grandi, come già dimostrato nella sfida di andata con l'1-0 che costò la panchina a Giovanni Cornacchini e portò all'arrivo sulla panchina barese di Vincenzo Vivarini. Se la Virtus vuole bissare la vittoria di 10 giorni fa nel domicilio della capolista regina è dall'1-1 di domenica scorsa al granillo che il Bari riparte alla ricerca del diciannovesimo risultato utile di fila scalata che ha portato Antenucci e Soci a meno 6 dalla capolista. Squadre protagoniste venerdì 31 gennaio allo Sheraton di Milano con il Bari che ha inserito in rosa il giovane difensore Pinto e l'attaccante Costantino. Abbiamo cercato di soddisfare tutte quelle che erano le richieste dall'allenatore, l'allenatore aveva chiesto di razionalizzare al meglio una rosa che all'inizio era stata costruita per giocare con un altro modulo. Abbiamo preso tutti i calciatori funzionali al nostro progetto tecnico, al progetto tecnico del mister e credo che si debba essere soddisfatti. Sono arrivati un paio di calciatori di categoria superiore ma soprattutto sono arrivati tre calciatori che hanno fatto molto bene in Cina nelle passate stagioni e credo che sia quello che nel giorno in andata un po' ci sia mancato visto che molto spesso abbiamo riscontrato che magari nella completezza della rosa poteva mancare qualcosa. Un giorno di operazioni ricco di movimenti anche per la Virtus via Calcagno e Puntoriere ha perfezionato lo scambio Bovo-Setola con il Siena. Il puntoriere è andato alla Virtus Verona per avere un po' più di spazio, un giocatore che noi vogliamo puntare, vogliamo dare la possibilità di mettere in mostra, credo che da noi era un po' chiuso quindi abbiamo preso questa decisione, lo stesso del Calcagno. Poi sono arrivati i giocatori nei ruoli che dovevamo bisogno e quindi siamo contenti per quelli che sono arrivati. Impegno in Sicilia per il Monopoli di Beppe Scienza che ha fatto della capacità di trattenere i migliori talenti in rosa giorno e fella su tutti i principali colpi del calcio mercato invernale. I biancoverdi fanno visita, fischio d'inizio alle 15, al Catania contro una squadra che sin qui ha marciato al di sotto delle attese e ha perso Sarno nell'ultimo giorno di contrattazioni. Proseguire il filotto positivo di 7 punti nelle ultime tre partite è la priorità di Jefferson e Sochi. Alla stessa ora confronto interno per il Biceglie che ospita l'Avellino a un girono esatto dall'ultima vittoria esterna in campionato, maturata proprio al Partenio Lombardi a settembre. Il mercato ha sottratto la rosa Piccini, Zigrossi e Letizia, così mister Mancini si affida a un attacco ritrovato. Accanto a Bagua si giocano una maglia, Montero e Gatto. Start alle 15, una trasferta e una sfida casalinga per le Lucane. Il Picerno va a Caserta, mentre il Potenza ospita il Rieti, fanalino di coda.